Penso a un problema grave che c'è in parecchie parti del mondo. Io vorrei che oggi pregassimo il problema del sopraffollamento nelle carceri. E dove c'è un sopraffollamento, tanta gente lì, c'è il pericolo in questa pandemia che finisca in una calamità grave. Preghiamo per i responsabili, per coloro che devono prendere le decisioni in questo, perché trovino una strada giusta e creativa per risolvere il problema. Grazie. Grazie. Grazie.